Carmine De Vito Nato a Tufo Emigrato negli Stati Uniti d'America Nei primi anni del Novecento Viaggia nel suo paese natale Alla fine degli anni Quaranta Il documento cinematografico Che Carmine realizza nei mesi Che trascorre in Italia E conservato per decenni Negli Stati Uniti d'America E riportato in Italia nell'estate del 2010 Da Patricia De Vito Grazie a tutti quelli Che hanno contribuito E vorranno contribuire A questo viaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti